Ciao a tutti ragazzi di JTF Clane, io sono JTF Retentive e quello che vi porto oggi è un piccolissimo vlog che come vi avevo annunciato già tempo fa sarà l'inizio diciamo di una nuova serie innanzitutto spero questo video di riuscirlo a caricare oggi giovedì 7 aprile alle ore 18 spero di riuscirlo a caricare perché non so ancora nulla, spero che in albergo a Roma ci sia il wifi male che vada da casa di Atomico e lo scrocco che è lì vicino comunque questo video come vi avevo annunciato è l'inizio di una nuova serie infatti per tutta la durata a Romics ovvero da giovedì 7 aprile a domenica 10 aprile faremo un vlog al giorno alle ore 18, un vlog di recap in cui si vedrà la giornata precedente quindi a partire da domani 8 aprile fino a lunedì 11 aprile voi vedrete un vlog al giorno in cui vi racconteremo che cosa succederà magari con degli spezzoni di timelapse o cose così comunque mi ispirano molto ai vlog americani più in voga ad esempio Casey Neistat che è famosissimo se non lo conoscete andatevelo a vedere che mi ispirano a quello stile perché comunque io li seguo quel genere di video e quindi un po' di ispirazione ci deve essere per forza quindi non accusatemi subito di copiare per via dei timelapse o cose del genere quindi niente io vi raccomando l'appuntamento ogni giorno alle ore 18 fino a lunedì 11 aprile per questa serie spero che vi piaccia veramente supportatela tanto perché per me sarà un impegno abbastanza gravoso visto che dovrò editare praticamente tutte le notti più o meno per riuscire a portarvi questa serie ma io ci credo molto in questo progetto vorrei vedere proprio il massimo supporto da parte vostra quindi a partire da domani alle ore 18 lasciate un bordello di like per questi daily vlog niente ragazzi qui da Rattentiva è tutto ci si becca un prossimo video vado a prepararmi che devo partire ciao 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 ciao